Mister Martinelli, per Abussese, battuta dal resto di misura a Triventa, avete provato fino alla fine a portar punti a casa? Sì, ci abbiamo provato, sappiamo che era una partita difficile, però credo che l'abbiamo preparata bene e fino alla fine siamo rimasti in gioco. Bravi gli avversari, anche se di forza i gol che hanno fatto abbiamo contribuito noi, abbiamo sbagliato sia quando ci hanno fatto male sia in alcune occasioni dove potremmo fare male. Diciamo che nel primo tempo forse avete giocato un po' meno bene rispetto alla ripresa. Sì, sicuramente, sapevamo come giocavano, abbiamo preparato la partita, loro comunque sono stati bravi perché hanno sfruttato il predominio territoriale e poi con le punte sono state soprattutto con Paolo Di Blasio che secondo me è ancora un attaccante che potrebbe fare anche una categoria maggiore perché usa benissimo il fisico e faceva ripartire ogni volta gli avversari. Abbiamo commesso degli errori e sulle ripartenze che ci hanno fatto, ci hanno fatto male. Chiuso il giro in andata, si guarda al futuro, che 2024 ti aspetti? Io mi aspetto di continuare con l'entusiasmo che ci stiamo mettendo in ogni partita, in ogni allenamento e nonostante le difficoltà che stiamo avendo, ripeto, sono convinto che fino alla fine la squadra avrà anche il giusto merito di, tra l'altro come stiamo anche dimostrando, a partite alterne di conquistare i punti pesanti. Grazie. 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 Grazie.